Quello del randaggismo a Entalandia è un problema davvero grave che conta più di 120.000 cani solo nella città di Bangkok. Oltre alla fame e al traffico, anche le condizioni igieniche contribuiscono a rendere la loro vita terribile. Per questo, nel suo piccolo, questo ragazzo che fa parte di un'associazione che si occupa della protezione degli animali, scende in strada ogni giorno con una spugna insaponata e dell'acqua per fare un bagno ai cani che vivono nel suo quartiere e dare loro sollievo dal caldo soffocante e dai parassiti. Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie a tutti!